Rivelazione della stagione cinematografica 1957-1958 fa il suo esordio sul grande schermo come co-protagonista nel Maestro. L'ultimo film è diretto da Aldo Fabrizi vincitore del Premio Mediterraneo alla diciottesimo biennale di Venezia. Il ruolo di Gabriele gli vale un grande successo di pubblico ma la sua carriera futura è breve. Fino al 1964 gira infatti solo altri quattro film, due dei quali con ruolo da protagonista. Dagli Appennini alle Ande, dove lavora con Eleonora Rossi Drago e Fausto Tozzi, e lo spagnolo Lazzarillo di Tormes.